Allora, primo emendamento, l'emendamento che è venuto il 4 settembre, si è provveduto ad esaminare la proposta di emendamento, provvedendo a informare gli interi interessati, che a loro ci sono relazionati con gli assessori di esperienza di donna, nella regione 1, allo scopo di identificarle la valutabilità, così come prospettato di servare la domicilità. Una parte delle esaminazioni benvenute, e anche per vedere i pregi a ciascun dirigente interessato, si è provveduto all'intento integrale e modificare l'imendamento alla proposta di emendamento di soldi, per esempio, a tutti i modi. Di nuovo senso, possa indicare che la questione di esigenza o modifici, indica anche nominativi e intugenti interessati per ciascuna valutazione raccontata, adeggi, potrà fare il riferimento per riferimento di separazione delle risposte rispetto all'iniziale proposta della decisione. Pertanto, sulla proposta di emendamento a finanziamenti per il giudice del esercizio finanziario è stata fatta in fondo a un'isferma consigliare, con le base dell'abitudine di quattro settembre, così come integrale e modificata dalla responsabile del servizio finanziario, sulla base del servizio di servizio finanziario, che è terminato in emendamento numero uno. Così si esprimono che regolazione non è la regolarità tecnica disponibile per il servizio finanziario, in ordine a regolarità contabile sull'esercizio finanziario per il servizio finanziario. Domenico in emendamento numero uno, cosa direzione? Legga la relazione istruttoria sulla proposta di emendamento a finanziario finanziario pietro di razzurri, visto parecchio di equivalertà tecnica e contabile Visto l'articulo numero , iläge numero 888 XX2 com visioni ed è modificata dall'articolo 7,8 della legge 468-2001 Relativamente alla parte insipremite, l'idea tra l'articolo di infarto di bomba sicuro e si credo che sia di un 446 manda a te